ciao a tutti oggi siamo lo faccio vedere qua sul percorso in sterrato direttamente di fianco alla vecchia minitalia per l'allenamento quotidiano potete voi sentite non so se potete sentire le urla di giubilo degli astanti e vedete anche questo incredibile drago che sovrasta questa cupola che ha poco di occidentale ma comunque che sta a dimostrare che questo è un percorso fantasioso sono tutti i percorsi mi raccomando che vi faccio vedere per correre o in bicicletta mountain bike come sempre oppure meglio a piedi per fare running allora vedete che lì proprio all'interno della torre in quella cavità c'è una giostra una trazione che va su e giù sfrutta la gravità per far divertire ovviamente le persone è un parco giochi moderno percorso che abbiamo fatto oggi questo qua ecco notiamo una cosa solitamente questo è un percorso completamente deserto non c'è nessuno come sempre vi porto in percorsi di allenamento e sono poco conosciuti al grande pubblico e adesso siamo usciti dal percorso in sterrato e sia la nostra sinistra che alla nostra destra troviamo un percorso e non è in cemento e non so neanche come definirlo questo materiale non è morbido ma non presenta neanche la durezza dell'asfalto classico però è un percorso pedonale completamente sgombro da macchine e in sicurezza quindi andiamo dritti siamo a capriate ricordiamolo vicino all'ex mini taglia allora siamo arrivati alla fine del percorso che dalla mini taglia arriva questa rotonda adesso non andiamo dritti se no scendiamo nella cava che proprietà privata ma andiamo a sinistra seguiamo la ragazza per intenderci col cane sempre protetti dalle macchine perché qua è tutto pedonale vedete che bel percorso tutto protetto da queste sbarre che ci proteggono anche dalle sbandate eventuali delle macchine bisogna sempre tenerne conto quando si corre il terreno è più morbido rispetto a prima non è tartan ma si può andare sempre dritti e arriviamo direttamente sulle sponde del brembo siamo un po in alto vedete quello laggiù è il fiume brembo questa è una casa tra parentesi bellissima che abbiamo visto ristrutturare vi faccio vedere anche la scalinata laterale guardate che bella porta tu fai gli scalini e sembra di camminare in cielo avete visto direttamente sul fiume che ovviamente è in secca non possiamo farci niente avete visto che in secca il brembo ma che ci volete fa adesso ovviamente in prossimità del fiume andiamo giù le cappelle qua si sprecano vedete cappelle votive mi raccomando siamo in discesa sempre dritti vedete noi apprezziamo sempre le discese ecco che proseguendo dritti raggiungiamo il nostro obiettivo di oggi che è questo parchetto qua vedete è un parchetto a prima vista un po insignificante però in realtà per noi runner non lo è perché ve lo faccio vedere subito se guardiamo la mappa vediamo che è un parco circolare ottimo appunto per ogni tipo di allenamento per noi runner non c'è praticamente mai nessuno quindi non corriamo il rischio di biciclette e così via ed è il parco comunale Arnichi l'ho scoperto quasi per caso ed è veramente ottimo per noi si entra di qua c'è una cava vicino e poi ve la farò vedere il terreno non è sconnesso anzi direi che siamo nel verde terreno è ottimo perché non è piatto non è terra bianca ma ammortizza ottimamente le nostre calzature e il nostro stride di fianco qua subito troviamo non so cosa sia probabilmente ma un capanno per il guardiano del parco non lo so comunque noi andiamo dritti la prima sorpresa sempre in ambito di allenamento e sempre per sviluppare la condizione aerobica più che altro è che innanzitutto troviamo non so se definirla una foppa all'infondo oppure un fiume questo probabilmente era un ex osservatorio di legno anzi sicuramente qui probabilmente si potevano osservare gli uccelli ma noi non siamo qua per osservare ma siamo qua per allenarci allora bellissimo perché essendo un parco a circolo noi possiamo discendere poi eventualmente risalire quindi possiamo allenarci sia in discesa che in salita guardate che bello non è lungo ma è veramente vezzoso andiamo dritti dai facciamolo a circolnavigazione guardate quanta legna che c'è incredibile avere ancora il cammino vabbè però avete visto che bello allora il terreno adesso è umido però è ben compatto siamo in una specie di valle di conca come sempre non c'è anima viva quindi ci possiamo allenare in tutta tranquillità anche a torso nudo al limite ecco vedete che c'è una specie di collinetta di declivio che va verso non so dove ci sono anche le panchine per eventuali picnic e l'immancabile di legno bellissimo bin per la spazzatura ecco mai visto nessuno quindi non so che cosa serva ma è sempre meglio averlo proseguiamo sempre in questo percorso adatto al running a meno al mountain bike devo dire perché è un po' corto quanto sarà un chilometro quindi inevitabilmente poco adatto alla bici perché la bici macina tanti tanti chilometri però per la corsa è fondamentale ancora legna guardate che bello vedete che ci sono le curve non è mai banale il parchetto un'altra legna non capisco il motivo di così tanta legna vabbè proseguiamo lungo la direttrice e qui ci avviciniamo pian piano alla cava ma prima della cava cosa troviamo dalla mappa l'avevamo intervisto un bellissimo laghetto piccolino ecco vedete di lì ci sono le montagne credo di sabbia fluviale mentre questo è un laghetto purtroppo chiuso non ne comprendo il motivo ma una puzza d'acqua inibita al grande pubblico notiamo che è presente anche una barchetta sì non è ampio per poter fare grandi navigazioni ma comunque ci accontentiamo salita salite fanno sempre bene al corridore comunque ritornando a noi siamo usciti dal parco che era quello lì alla nostra sinistra e adesso c'è un po d'asfalto da fare ma saranno tre quattrocento metri ma forse meno allora adesso stiamo attenti perché possiamo ritornare a girare nel parchetto che quello lì dove siamo arrivati prima oppure andare a destra quindi noi andiamo a destra sempre cose nuove ecco qua siamo in realtà in questo bellissimo percorso adesso ancora in mezzo alla natura che ci porterà sulle rive del brembo seguiamo la strada dritti dritti si arriva Crespi Darda niente di più semplice grazie per aver visto il video se vi è piaciuto mettete pure un like commentato insomma fate quello che volete come dice il grande catto fomentatelo ok ciao ragazzi ci vediamo la prossima volta guardate che foresta e qui è sempre pieno di vegetazione iosa per fortuna è parco quindi non dovrebbe essere intaccato dall'uomo